Posso? Sul serio? E' il tuo corpo. E' il tuo corpo. Vibrar cerca del mio. Vibrar sarca del mio. No, no, vibrar cerca del mio. Dai caro, andiamo, si è fatto tardi. Signor Quirino. E' stato un piacere rivedervi. Vi aspetto domani sera, vi raccomando. Se fossi in voi non ci conterei. Cercherò di convincerlo. Lo spero. E' stato un piacere rivedo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non rispondete perché avete perso il conto. Non sono cifre che si ricordano facilmente. E ditemi, qual è la cosa più bella che voi potete avere durante la gravidanza delle vostre signore? Non è forse quella bella pancia grossa e rotonda che voi potete baciare, guardare, toccare o rimbalzarci sopra? E cosa fate quando la desiderate più di ogni altra cosa al mondo? Fate il primo figlio, il secondo, magari il terzo. Ma al decimo figlio, signori, vi assicuro che non avrete nemmeno più il desiderio di una moglie con tutto quello che vi costa. E perché rinunciare alla bellezza e alla gioia che solo le nostre signore sanno darci? Perché rinunciare se ce la venere incinta? Signori, ce la venere incinta? Per sole 80 lire? 70? No! 50 lire! Signori, 50 lire e lo spettacolo può iniziare! Grazie, signori, accomodatevi. Oh, quanta bella gente! Quirino, speriamo che sia di buona auspicia. Lo spero, Matilda. Signori, forza, potrebbe partorrire da un momento all'altro. Ubaldo. Di chi è? Di chi vuoi che sia. Butta, caro! Hai avuto proprio la faccia tostata di torna? Ma io ti distrò. Io vi ammazzo come a due cani. Andiamo, forse che aspetti. Fermi, dove andate? Vedete dove vai? Ritorna qua. Vi ammazzo come due cani. Fermateli! Oh, mio Dio, Quirino, come state? Andate via, sparite! Fermate qui due! Quirino, non vi disperate. Il problema lo risolviamo, non vi preoccupate. Non fate così, che Matilda ci resta male. Il problema lo risolviamo. Wow! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.